c'è un fatto che questa settimana mi ha colpito tantissimo lei è linda cerruti ha conquistato pensate otto medaglie europee a a roma dietro tutto questo c'è un sacrificio enorme lei linda e ligure una notatrice artistica e che cosa ha fatto ha postato su instagram una foto artistica che riguarda proprio una classica posizione del nuoto sincronizzato una posizione mi verrebbe da dire scultore a quasi appunto a voler simulare fuori dall'acqua uno di quegli esercizi che abitualmente realizza in piscina beh l'idea è molto carina perché ha appese alle gambe queste otto medaglie purtroppo manca loro ma è un dettaglio pensate che lei veramente ha contribuito in maniera incredibile a incrementare questo medagliere questo trionfo che è arrivato appunto dai recenti europei di roma questa foto che non ha nulla naturalmente di osè di pornografica una foto assolutamente curiosa che si rifà un po a quello che è lo sport praticato appunto da linda beh per questa 28enne savonese si è scatenato sui social un qualcosa di terribile le battute sessiste sono infinite non era più neanche possibile contarle quindi battute volgarissime una volta si diceva battute da da caserma ma ecco questo una volta ancora non è una volta e anche adesso battute anche veramente di una tristezza di uno squallore unico e questo ci dà ancora una volta l'idea e l'esatta dimensione di quello che è un po il nostro rapporto con con i social un rapporto che ancora molto spesso naviga all'interno di queste parole buttate lì che denunciano che cosa denunciano quello che è di fatto la nostra società una una società che ancora sotto tanti punti di vista si dichiara libera diciamo emancipata ma poi dal punto di vista pratico ancora accade tutto questo ed è un qualcosa di molto molto grave altra cosa molto importante che ci tengo a dire è che linda ha deciso di rivolgersi alla polizia postale non so se lo ha fatto comunque era la diciamo tra le possibili azioni per denunciare coloro i quali hanno esagerato con dei commenti veramente offensivi per quanto riguarda la sua immagine il suo diritto di fare sport il suo diritto di postare una foto che ha a che fare con la sua disciplina sportiva ecco questo è un aspetto importantissimo non dimentichiamoci mai che è possibile denunciare chi si muove all'interno del web pensando che sia un prato sconfinato dove tutto è lecito no non è così che vanno le cose quindi io tra l'altro sto cercando di contattare linda lo sto facendo in questi giorni perché mi farebbe molto piacere parlare di questi temi all'interno di cuori connessi e sicuramente lo faremo naturalmente a questione di tempo nel frattempo lei va alla nostra solidarietà e purtroppo ancora il nostro stupore anche se non c'è più da stupirsi di fronte a questi comportamenti perché sono quasi una regola torneremo a parlare di tutto questo e ricordiamoci oggi una cosa importante vale per me vale per voi esiste lo strumento della denuncia il web non è terra di nessuno un'offesa sul web una calugna un tentativo di truffa una qualsiasi cosa un qualsiasi reato appunto è tale anche online detto questo ci vediamo la settimana prossima